E' un'opera che volevo fortemente realizzare, fin da quando abbiamo inaugurato la variante di Villa Potenza con il nuovo ponte San Giovanni Paolo II. Un'opera fortemente voluta dal presidente della provincia di Macerata Antonio Pettinari, un naturale completamento di un percorso iniziato nel 2014 con l'inaugurazione del ponte San Giovanni Paolo II con una variante per evitare l'ingorgo del traffico a Villa Potenza. La nuova bretella di 265 metri a due corsie prevede anche la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Settempedana e sarà realizzata con circa 800.000 euro. Come detto, il lavoro è finalizzato a completare il raccordo della viabilità provinciale nella frazione maceratese, in uno snodo dove confluiscono numerose provinciali, appunto la Settempedana, la Iesina e la Cingolana e dove c'è un progetto di riqualificazione che interessa il centro fiere già programmato dal comune di Macerata. A proposito di comune, chiude il presidente anche sottolineando la buona collaborazione con tutte le istituzioni. La variante urbanistica è stata approvata dal comune di Macerata, il progetto esecutivo è stato approvato qualche giorno fa da sottoscritto, sono iniziate le procedure d'appalto e quindi nei prossimi 5-6 mesi finalmente avremo questa arteria. Io sono molto contento perché primo testimonia la collaborazione che c'è tra le istituzioni locali e questa ci deve essere sempre perché altrimenti le cose non si realizzeranno, nemmeno le più semplici. L'altra è il coronamento e il completamento di un progetto, di un'opera pubblica che volevo fortemente realizzare prima della fine del mandato.